Una vasta perturbazione atmosferica ha investito la penisola italiana, colpendo con la massima intensità dapprima la Toscana, propagandosi poi in altre regioni italiane. Il centro cittadino di Firenze, così ricco di storia ed opere d'arte e di inestimabile valore, viene investito da una massa enorme di acqua e fango, che travolge quanto si trova sul suo cammino. Il disastro ora appare in tutte le sue proporzioni e nella sua eccezionale gravità. Grazie a tutti. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti.